Ben ritrovati con il telegiornale di Arezzo TV, forti raffiche di vento si sono abbattute nella giornata di oggi nel territorio aretino insieme anche alle piogge, anche se non in maniera violenta. Le temperature sono decisamente scese, una decina gli interventi dei vigi del fuoco dalla Valdichiana al Valdarno, il primo intorno alle 12.40 a Palazzo del Pero dove è caduto un masso sulla sede stradale, l'altro a Ceciliano invece, frazione alle porte della città, in questo caso è stata una pianta ad essere stata travolta e abbattuta alle 17 ancora. I vigi del fuoco sono dovuti intervenire lungo la E78 dove tra Pieve al Toppo e San Zeno in direzione Arezzo una pianta è caduta invadendo parte della carreggiata, ad ogni modo non ci sono stati per fortuna feriti e proprio per ancora la giornata di domani la sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per temporali e rischio idrogeologico. Ancora furti, questa volta ad essere stata presa di mira, è stata la zona di Manciano nel comune di Castiglion Fiorentino. Chiara Sadotti. In sole poche ore sono riusciti a visitare ben sei abitazioni, tutte nell'arco di circa un chilometro. Nella mirino dei malviventi è finita la frazione di Manciano nel comune di Castiglion Fiorentino. Una banda di almeno quattro persone è entrata in azione nella serata di ieri. Il tutto è stato immortalato dalle telecamere di videosorveglianza. Nelle immagini si vede un uomo con cappellino e passamontagna venire via da una delle abitazioni prese di mira con un ombrello e una bottiglia d'acqua. Siamo veramente molto preoccupati, quasi da non dormire la notte, quindi questa è una situazione, un clima che emette molta preoccupazione in tutti noi. Il primo colpo attorno alle 22.30 a mettere in fuga i ladri le urla dei proprietari di casa, quindi la banda indisturbata è entrata nelle altre abitazioni dove ha fatto razzia di orologi contanti e preziosi. Infine la fuga a bordo di un'audi scura. Nelle scorse settimane, sempre nella stessa zona, altre due abitazioni erano state visitate dai ladri. Si allunga così la scia di furti e tentati furti nelle frazioni dell'aretino e cresce anche la preoccupazione. Senti un rumore e magari ti vieni da facciarti, vedere, quindi avere tutto, sempre una situazione di ansia continua, da poter dire non esco di casa, ma nemmeno questo poi dopo ci fa stare tranquilli perché tante persone sono entrate mentre dormivano in casa, quindi violando veramente la nostra privacy, la nostra intimità, la nostra sicurezza, tranquillità di essere sicura almeno in casa nostra. A Palazzo del Piero come Firenze un uomo si è affacciato dal terrazzo di casa, ha imbracciato una carabina, poi è risultata essere ad aria compressa mettendo nel mirino i passanti, tra cui anche alcuni bambini. E' accaduto ieri sera intorno alle 22.30 nella frazione appunto di Palazzo del Piero sul posto, sono intervenuti i carabinieri. L'uomo, un sessantenne italiano, avrebbe avuto precedentemente appunto a questo fatto un diverbio con un compaesano rispetto al cane che doveva essere tenuto al guinzaglio, un cane peraltro di grossa taglia. L'uomo lì per lì non ha reagito in maniera violenta, è salito però poi in casa e appunto si è affacciato dal balcone con in braccio una carabina. Sono dunque intervenuti i carabinieri che hanno portato l'uomo in caserma per i dovuti accertamenti e hanno preso in custodia la carabina. 150.000 euro per rimuovere interamente l'amianto dalla scuola dell'Orciolaia. Questo l'investimento del comune di Arezzo e a pochi giorni ovviamente dalla ripresa dell'anno scolastico. Sentiamo. Completati i lavori per l'eliminazione definitiva dell'amianto già incapsulato precedentemente alla scuola Orciolaia per un totale di 150.000 euro. L'intervento di manutenzione e di bonifica ambientale che ha interessato la pavimentazione ha rispettato i tempi previsti, essendo iniziati i lavori immediatamente dopo la chiusura per le vacanze estive. Adesso, come da protocollo, l'amministrazione attende i risultati dell'ultima verifica dell'Ausla che, dopo l'analisi di rito, comunicherà la conclusione della procedura o la definizione di altri passaggi prescrittivi, sempre in relazione alle norme in vigore. Martedì 29 agosto è invece previsto un incontro tra il vice sindaco Lucia Tanti, l'assessore Alessandro Casi e i genitori dei 130 bimbi iscritti alla scuola dell'infanzia e al nido per illustrare loro gli interventi effettuati e le modalità di rientro. La scuola è sempre stata sicura ma siamo molto contenti di aver portato avanti questo intervento nel convincimento che l'amianto incapsulato non crea problemi ma se viene rimosso è molto meglio e sulle scuole non badiamo a spese, concludono il vice sindaco Tanti e l'assessore Casi. Siamo adesso di Giostra. In poco tempo i posti, come sappiamo, nelle tribune di Piazza Grande sono davvero andati a ruba. La piazza ha una capienza di 3.600 persone, dei quali circa 1.400 nei 4 spicchi dei posti in piedi. I restanti 2.200 sono poi suddivisi tra tribuna A, B e C. Erano già tanti quelli che erano stati, diciamo, che gli aretini si erano accaparrati con il famoso click day. Poi questa mattina il botteghino è aperto intorno alle 9 e sono terminati anche gli altri. Adesso restano soltanto i posti in piedi. Allora con i prossimi due servizi andiamo a vedere la cerimonia delle stazioni delle carriere e poi il primo giorno di prove in piazza. Corre la prima carriera, il quartiere di Porta Santo Spirito! Aprirà la 144esima edizione della giostra del Saracino il quartiere di Porta Santo Spirito, a chiudere la lizza invece Porta Crucifera, mentre il secondo e il terzo quartiere estratti sono stati rispettivamente Sant'Andrea e Porta del Foro. Questo l'ordine di ingresso in piazza il prossimo 3 settembre, deciso dalla sorte nella cornice di Piazza della Libertà, come vuole la tradizione. Dopo l'estrazione delle carriere, il giuramento dei capitani dei quartieri alla presenza anche del sindaco di Arezzo, Alessandro Ghinelli. Al termine della cerimonia, il corteo storico ha accompagnato la lancia d'oro, dedicata al centenario dell'Arezzo Calcio, nella cappella della Madonna del Conforto, dove sarà custodita sino al giorno della giostra del Saracino. Da lunedì 28 agosto, tempo permettendo, invece al via le prove dei giostratori, a partire dalle 16.30 sino alle 19.30. Andranno avanti fino a mercoledì 30 agosto, giovedì 31 invece, la simulazione di gara a partire dalle 17, quando i giostratori avranno a disposizione una carriera vuoto ed un solo tiro al buratto. Venerdì 1 settembre alle 21.30, infine la prova generale dedicata a Vittorio Dini. Parte la settimana di prove, tra l'altro prove che insomma fino all'ultimo minuto vi hanno fatto un po' tremare per via del maltempo. Eh sì, dopo un'estate estremamente siccitosa e calda siamo arrivati alla giostra e la giostra chiama l'acqua, come la fiera più o meno. E quindi siamo stati tutto il giorno con, e lo siamo ancora insomma, con un po' di apprezzione, sperando che Giove Pluvio ci dia una mano. Ecco, ce lo siamo detti insomma anche in conferenza stampa durante la presentazione di questa bellissima lancia d'oro. L'attenzione per la sicurezza, forse per questa giostra ha un'asticella un pochino più alta. Sì, ci sono intorno a noi delle manifestazioni storiche che hanno avuto dei problemi e di conseguenza qui insomma dobbiamo anche noi fare uno sforzo in più in tutti i settori. Lo abbiamo già fatto, ne abbiamo in passato spiegato anche alcune procedure che abbiamo e alcuni studi che stiamo facendo sui cavalli e quant'altro per dimostrare appunto che la giostra è corsa in sicurezza e i cavalli non sono sotto stress. Però indubbiamente insomma, ripeto, se le condizioni in cui si ritrovano a fare la loro performance sono ottimali, quindi non in una situazione di bagnato sarebbe meglio. Ecco, la figura in questo caso dell'ingegnere Alessandro Casi che poi è anche assessore, però ecco non oscura comunque quella del maestro di campo che insomma è la figura in assoluto a cui fare riferimento sotto tutti i profili quando si parla di ciò. Assolutamente sì, l'ingegnere Casi che devo ringraziare perché si è dato disponibile in un ruolo che francamente è anche scabroso, no? No, se vogliamo, però ha le competenze e ha dato veramente il massimo di quello che è stato davvero encomiabile. Ora speriamo che appunto non ci sia da metterci le mani ma già pensiamo che per domani qualche rattoppo andrà fatto, ammesso e non concesso che il tempo ci consenta di provare. Questa scelta anche per quell'incidente che poi per fortuna non ebbe conseguenze né per il cavallo né per il cavaliere che però c'è stato. Sì, non tanto quello perché più o meno quegli scivoloni ci sono sempre stati in giostra quanto per quello che è successo in altre manifestazioni storiche che hanno un po' alzato il livello di attenzione. Ripeto, la giostra è una manifestazione che si corre nella più completa sicurezza per i cavalli. I nostri cavalli che partecipano alla giostra e ovviamente alla prova generale sono cavalli in uno stato non di stress. Abbiamo raccolto dati già da due anni a questa parte e c'è bisogno del terzo anno per poterli rendere pubblicabili e al termine di questi studi il dottor Gottarelli pubblicherà a livello internazionale questo studio che attesterà esattamente quello che vi sto dicendo. Parte da oggi il progetto dell'ASL Toscana Sud-Est per promuovere la donazione di sangue e soprattutto di plasma. I 13 centri trasfusionali distribuiti nelle province di Grosseto, Siena e Arezzo incrementeranno la disponibilità per chi vuole donare grazie alle aperture extra, i giorni e gli orari li trovate nel sito proprio dell'ASL Toscana Sud-Est. Sebbene questa estate le persone abbiano continuato a donare e si siano registrate minori carenze, più si dona ovviamente più vite si possono salvare. Parliamo adesso invece di polifonico, nelle scorse ore si è conclusa la settantunesima edizione a trionfare il coro da camera di Torino. Il coro da camera di Torino si è giudicato il Gran Premio Città di Arezzo 2023 del concorso polifonico internazionale Guido d'Arezzo. Una garanzia per l'accesso di diritto al Gran Premio Corale Europeo 2024 che si terrà a Varna in Provenza il prossimo luglio. È una grandissima gioia e come dicevo prima una grandissima emozione perché è un sogno che è iniziato 40 anni fa quando ho ascoltato per la prima volta un'edizione del concorso polifonico di Arezzo. Tornarci e partecipare era già una grandissima emozione per questo e una grandissima immensa gioia per tutto il lavoro fatto. È un risultato che è andato oltre ogni nostra aspettativa e che vogliamo condividere comunque con tutti i partecipanti di questo concorso, con tutti i coristi che hanno studiato, che si sono impegnati, ai maestri che stanno facendo una grandissima opera di cultura musicale per i giovani. 13 cori provenienti oltre che dall'Italia, da Spagna, Indonesia, Paesi Bassi, Filippine, Portogallo, Polonia, Inghilterra, Svezia ed Irlanda che si sono sfidati per la 71esima edizione della competizione. Perfettamente in linea con i livelli degli ultimi 10 anni. Devo dire che quest'anno con una piacevolissima sorpresa, un esploat secondo me parecchio interessante dei due cori italiani che hanno partecipato, tutte e due arrivati in finale per la disputa sul Gran Premio Fittaglianese. Prima le note del Coan Trio con i grandi classici internazionali interpretati da Francesco Santucci e poi la carica di Vittorio Sgarbi, mattatore della serata. E così si è concluso il Premio Cortona Antiquaria 2023. Vittorio Sgarbi e Francesco Santucci, a loro è andato il Premio Cortona Antiquaria di questa edizione 2023. Le due personalità al centro della serata hanno ribadito il loro amore verso Cortona, una città che continua a dimostrarsi luogo accogliente per chi fa arte e spettacolo. Il sottosegretario alla cultura non ha poi mancato di visitare gli stand della 61esima edizione che andrà avanti fino al 3 di settembre. Vanno guardati con maggiore rispetto perché sono considerati antagonisti dello Stato, invece i collezionisti che comprono gli antiquari poi spesso loro hanno roba dei musei, quindi le collezioni sono i motori dei grandi musei e quindi l'antiquario va guardato come una persona che lavora nel campo comune cercando di trovare una soluzione che non sia soltanto il vincolo, non puoi vendere un'opera, non puoi mandarla all'estero, soprattutto per l'arte del Novecento. Quindi è un tema che sto affrontando e che conosco bene e chiedete agli antiquari una condizione di grandi disagi rispetto al grande mercato internazionale, non sarà mai impossibile far diventare il mercato italiano come quello francese o inglese, però bisogna cercare di dire alcune cose, devono essere liberi, non possiamo vincolare burri o fontane, anche se sono grandi maestri che sono andati all'estero. La nostra città di nuovo sede del terzo raduno mondiale del bracco italiano. Sentiamo. Una razza che ha dei forti legami con i nostri territori perché proprio ai tempi dei medici fu rivalorizzata, riscoperta e incentivata, quindi con soddisfazione dopo il raduno mondiale del 2017, nel 2020 è saltato per il Covid e mi hanno chiesto di riproporre Arezzo come capitale per il terzo raduno mondiale del bracco italiano. Arriveranno da tutto il mondo i bracchi italiani per partecipare al terzo raduno mondiale, un evento imperdibile per appassionati ed allevatori. Sarà infatti ancora una volta Arezzo ad ospitare la manifestazione dall'8 al 10 settembre. Un programma interessante, si prevede la partecipazione come nel 2017 di 19-20 paesi, quindi molti stranieri del nord Europa, ma anche dall'America, Nord America e Sud America. Ci sarà un convegno internazionale sulla genetica, quindi sulla razza e la riproduzione. Il sabato mattina al Prato, un palcoscenico naturale che fa impazzire specialmente gli stranieri, le prove di bellezza, l'Expo, con tre ringhe dove si individuerà quello che è il bracco più bello del mondo. La domenica ci spostiamo a un'azienda faunistico-venatoria a Pieve Santo Stefano della Federcaccia, dove saranno delle prove di lavoro senza sparo per individuare anche il cane più bello, ma anche più bravo nelle sue attitudini naturali che sono la caccia. È aperta a tutti, ma portando a venire anche gli appassionati, gli amanti del bracco, che non parteciperanno alle manifestazioni più importanti, ma questo secondo me è anche un'opportunità per far conoscere Arezzo dal momento che poi abbiamo messo a punto un progetto che sta funzionando, che potrebbe essere presentato al Presidente Nazionale dell'Ente Cinofilo Italiano come un format replicabile per tutte le razze, quindi volendo Arezzo può diventare anche la capitale di tante altre manifestazioni. Ed infine chiudiamo con lo sport, di nuovo al Palaestra per sentire ai nostri microfoni Calzini, un giocatore aretino che torna a casa e dunque militerà tra le file della SBA per il prossimo campionato. Qual è la sensazione di tornare a vestire i colori di casa? Sensazione unica perché la società, ho iniziato qua a giocare a palla canestro, non proprio in questo palazzetto ma alla vecchia SBA, quella lì, dove adesso non so nemmeno cosa ci fanno, penso sia una palestra per la ginnastica e quindi tornare qui in questa società con queste persone che ti accolgono così a braccia aperte è davvero unica come sensazione, fa stare proprio bene. Insomma da aretino che torna a casa ti aspetti che anche gli aretini seguono, lo hanno sempre fatto, ma insomma seguono da vicino questo campionato, ovviamente è un campionato impegnativo. Assolutamente, ho seguito sempre la squadra perché non puoi non seguire la squadra della tua città, ho visto ultimamente che tante persone si sono avvicinate, chi c'era di già, chi invece è nuovo ed c'era un bel clima in palestra, nel palazzetto durante le partite non, quindi spero di trovare tutte quelle persone, se non di più per il prossimo anno e tutte le partite che saranno. Andiamo con una battuta, ci dice il Presidente che se vinciamo questo campionato tagli i baffi. Purtroppo si doveva fare dei sacrifici, niente, sì dai, diciamo di sì dai. È tutto per questa edizione, grazie per la cortese e attenzione, arrivederci. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.